Buongiorno, non so se mi sentite? Buongiorno e benvenuti, siamo in questo evento che abbiamo deciso di ospitare come Dipartimento per la trasformazione digitale e questo è un po' un argomento caldo, è un tema molto seguito credo anche non solo dagli addetti ai lavori perché come è noto ci sono stati diversi articoli di stampa che hanno già parlato della questione dell'identità digitale e quindi noi molto volentieri abbiamo promosso anche l'organizzazione di questo evento anche per iniziare un po' un confronto più trasparente, più aperto e più pubblico rispetto al fatto che il nostro paese si trova in una fase di accelerazione e di evoluzione sulla questione dell'identità digitale. Oggi con me ci sono una serie di colleghi con cui lavoriamo tutti i giorni che rappresentano organizzazioni e società importanti che sono già coinvolte in questo percorso e oggi daremo una prima idea di che cosa è l'evoluzione dell'identità digitale che è un percorso già iniziato che peraltro avrà delle scadenze abbastanza ravvicinate. Partiamo dalla situazione attuale, come è noto il contesto italiano oggi registra una serie di schemi di identità digitale, tre schemi di identità digitale che sono più o meno utilizzati dai cittadini italiani, alcuni sono molto diffusi, alcuni molto meno, alcuni sono semplici da usare, alcuni lo stanno diventando, altri sono nati con degli obiettivi diversi e quindi sicuramente nel corso del tempo assisteremo a una forma di razionalizzazione. Il fatto di arrivare a una razionalizzazione non è solo una iniziativa del governo, c'è una richiesta a livello anche europeo di arrivare a degli schemi di identità digitale, di semplicità di utilizzo di questi schemi da parte degli stessi utenti, da parte degli stessi cittadini e quindi l'idea che abbiamo è quella di accelerare un percorso per la realizzazione di un wallet italiano. Come è noto agli addetti ai lavori esiste uno schema europeo che è in fase di discussione e di sviluppo in questo periodo, si tratta della revisione del regolamento ai DAS2 e che noi abbiamo deciso di anticipare con questi obiettivi. La razionalizzazione dell'ecosistema dell'identità digitale in Italia, un ulteriore passo verso la semplificazione nell'utilizzo di questo sistema digitale che serve ad autenticarsi, ma non solo perché vedremo che il wallet prevede una serie importante di ulteriori funzionalità che arriveranno presto, che sono legate all'aggiungere all'identità digitale per esempio gli attributi certificati. Quindi il fatto di poter utilizzare altri dati che appartengono al cittadino all'interno dello stesso contenitore sarà una cosa, un dato di fatto. L'Italia grazie a questo anticipo manterrà una posizione di leadership perché sappiamo che per l'identità digitale l'Italia è un modello anche a livello europeo e quello che sta succedendo a livello europeo è quello che ho accennato prima, cioè generare a questo punto un framework che valga per tutti i Paesi membri e che serva ai cittadini europei a poter utilizzare questi sistemi non solo a livello nazionale ma anche a livello transnazionale. Questo è un percorso che è già partito da alcuni anni e adesso sta accelerando verso la realizzazione del wallet europeo. Che cosa sta succedendo a livello europeo? È anche molto importante seguirlo. Qui abbiamo indicato alcuni punti che sono ancora in discussione perché siamo arrivati a una fase di discorsi fra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, si chiamano triloghi, dove alcuni punti sono ancora aperti perché sono punti ancora molto discussi a livello di Paesi membri e di stakeholder che nei singoli Paesi membri stanno assumendo delle posizioni che sono diversificate fra di loro. Il Dipartimento ha deciso di anticipare l'esperienza italiana anche per assumere un ruolo a livello europeo che possa diventare anche un benchmark per gli altri Paesi. Io a questo punto do la parola a Emiliano Vernini del Dipartimento e responsabile dell'area Identità Digitale per raccontare in breve che cos'è la strategia di evoluzione dell'identità digitale in Italia. Grazie Vincenzo, buongiorno a tutti, spero che riusciate a sentirmi. Vi illustro velocemente quella che è un po' la nostra strategia di sviluppo della progettualità che naturalmente parte da quello che oggi già esiste perché la volontà è di sfruttare, costruire, evolvere quello che già esiste perché è un'eredità insomma molto molto importante. Ci avviamo allo sviluppo di quello che è una prima versione dell'IT Wallet con due milestone molto ravvicinate, molto sfidanti. Entro la fine di quest'anno contiamo di sviluppare quello che probabilmente viene definito proof of concept ma in realtà sarà una vera e propria beta version dell'IT Wallet con gran parte se non tutte le funzionalità già sviluppate e anche molte delle componenti dell'ecosistema che gravitano intorno all'IT Wallet su cui come è noto proveremo a sviluppare tre casi d'uso principali che sono quella della licenza di guida, della tessera sanitaria e del voting pass. Dico che sarà un po' di più, molto di più di un proof of concept perché poi la scadenza successiva è quella di giugno 2024 per il rilascio di una prima versione ai cittadini quindi per il rilascio dell'Alfa che contempla esattamente le stesse funzionalità e con almeno questi casi d'uso implementati. Dico almeno perché poi insomma la nostra idea è quella di rendere l'ecosistema assolutamente scalabile e una volta sviluppata la possibilità di emettere un'attestazione digitale contiamo insomma che in tempi piuttosto rapidi si possa estendere il perimetro. Che cosa stiamo facendo come dipartimento? La prima cosa di cui ci stiamo occupando è quella di sviluppare il wallet italiano ma di farlo anche in coerenza con tutte le altre progettualità che stiamo portando avanti e che sono in corso nell'area di identità digitale. Qui ne vedete alcune, c'è tutta la misura 144 del PNR che è relativa alla diffusione dell'utilizzo e l'adozione di Speed DC. Stiamo lavorando in ambito europeo alla revisione, contribuendo alla revisione del framework IAIDAS e allo sviluppo della reference architecture per il wallet europeo. Partecipiamo ai large scale pilot che sono i progetti pilota per testare il wallet europeo su casi concreti di utilizzo e su persone, sui cittadini. Partecipiamo a due consorsi, Nobid e Potential. Insomma come potete capire va governata una complessità e va gestito il rischio tra diverse progettualità che si incastrano. Sullo sviluppo del wallet italiano, come diceva Vincenzo, stiamo già collaborando con alcune organizzazioni italiane per lo sviluppo della prima fase e per lo sviluppo quello che abbiamo definito Proof of Concept. Qui ne vedete citate alcune, Pago.pa che attraverso l'evoluzione dell'appio sarà di fatto il wallet italiano. IPZS come fornitore di quelli che vengono definiti PID, Personal Identification Data, a partire dalla CIE. Consogei che per il ruolo di sviluppo di servizi per la pubblica amministrazione potrà ricoprire il ruolo di fornitore di attestazioni digitali e questo è solamente il nucleo che sta collaborando con noi per questa prima fase. Naturalmente nel momento in cui il perimetro si amplierà verso la seconda ma è quella del rilascio dell'alpha, altri soggetti, altri stakeholder entreranno a far parte di quella che è la squadra di progetto, si allargerà. Questo è il lavoro che stiamo facendo come dipartimento. Grazie Emiliano. A questo punto io lascerei quella slide, la lascerei perché lascerei la slide precedente perché lascia capire, lascia intendere la complessità anche di questo intervento che stiamo facendo. Non dobbiamo dimenticare che uno degli schemi di maggior successo in Italia finora però è Speed. E qui entra anche un po' in campo il ruolo di Agid per il quale a questo punto darei la parola a Enrica Massella perché ci racconta che cosa sta succedendo invece sul fronte di Speed. Grazie mille, buongiorno a tutti. Effettivamente io vorrei proprio partire da quelli che sono alcuni numeri che sono estremamente significativi per quanto riguarda l'intero sistema Speed e quindi dare anche quello che è lo stato per quanto riguarda questo sistema di identità digitale italiano. Il nostro sistema di identità digitale è un sistema di autenticazione che ha il maggior numero di utenti al mondo e possiamo dire che è veramente la best practice a livello europeo. Quindi negli ultimi tre anni il trend di crescita delle identità digitali italiane è sempre positivo. Siamo arrivati attualmente a 35 milioni di identità Speed e analogamente a 35 milioni di identità della carta di identità elettronica. Attraverso il sistema Speed i cittadini sono in grado di accedere ai servizi messi a disposizione online da 14 mila amministrazioni pubbliche e da 164 soggetti privati che anche essi utilizzano Speed per quanto riguarda il sistema di autenticazione ai loro sistemi. Questi accessi ormai hanno raggiunto la soglia di un miliardo di accessi e soltanto in questi ultimi quattro mesi di quest'anno siamo già a 300 milioni di accessi. Quindi questo per farvi capire la dimensione dell'intero sistema che è un sistema che ultimamente vede anche il settore privato che si sta affacciando per beneficiare di tutti quelli che sono i benefici dell'intero sistema Speed. Il fatto di poter utilizzare dei sistemi di autenticazione direttamente attraverso questa identità digitale per loro è un enorme vantaggio. Per quanto riguarda Agid, la sua attività si rivolge soprattutto a governare l'intero sistema attraverso l'accreditamento dei diversi soggetti che a diverso tipo fanno parte di questo sistema. Quindi non solo i gestori dell'identità digitale ma anche i gestori dei servizi pubblici, gli aggregatori, tutti quei soggetti che mediante delle convenzioni operano all'interno del sistema stesso. Ma oltre a questo, questo sistema ha anche un sistema regolatorio robusto e solido che ha visto soprattutto negli ultimi anni la definizione delle linee guida ad esempio per introdurre gli standard nuovo OpenID Connect piuttosto che aprire all'ambito dei minori alle attribute authorities e questo sarà anche all'interno della nuova convenzione che si sta definendo con l'identity provider Speed un'integrazione con l'anagrafe nazionale della popolazione residente. E quindi quello che svolge Agid è proprio di mantenere in piedi questa infrastruttura che tra l'altro è sicura e solida perché in qualche modo è legata anche a un'azione di vigilanza che viene svolta nei confronti di questi soggetti, una vigilanza annuale svolta sia da Agid sia dagli organismi di valutazione. Pertanto è fondamentale in qualche modo mantenere questa che è l'esperienza che è stata svolta nell'ambito del sistema Speed, non mandarla a perdere ma anzi fare in modo che possa confluire attraverso un percorso verso quelli che saranno i requisiti e le indicazioni per il wallet prima italiano e poi quello europeo che si sta definendo in ambito della Commissione europea. Grazie Enrica, grazie per questo primo intervento, poi nella seconda parte apriremo anche un dibattito quindi entriamo anche un po' più nel merito. C'è un ruolo anche molto importante che peraltro è stato anche già comunicato di recente come novità da parte del Poligrafico dello Stato che gestisce perché la realizza e la distribuisce la carta di identità elettronica ci sono rilevanti novità anche sulla usabilità di questo potente strumento che ricordiamolo è sempre bene dirlo, è uno strumento ad altissima sicurezza perché il supporto della carta è un supporto molto sofisticato che ha delle funzionalità elettroniche e a questo punto anche digitali che sono diventate parte dell'ecosistema dell'identità digitale perché con la carta di identità elettronica oggi abbiamo anche il livello 1 e 2, oltre il livello 3. Darei la parola a questo punto a Stefano Imperatori di Poligrafico per raccontarci le ultime novità e poi dopo andiamo man mano più nel dettaglio invece del ruolo all'interno del wallet italiano. Grazie Vincenzo, buongiorno a tutti. Sicuramente su carta di identità elettronica avete visto le principali novità che sono state introdotte e dopo esserci occupati come Poligrafico, come Ministero dell'Interno, come Dipartimento della realizzazione di uno strumento estremamente sicuro che è quello della carta di identità elettronica che ha la sua base di sicurezza oltre che sull'elemento fisico della carta di identità elettronica che come è stato detto è uno strumento di massimo livello di sicurezza. Da questo punto di vista quando è stata accreditata a livello europeo come strumento di identità digitale è stato notificato direttamente come strumento di massimo livello di sicurezza apposta, un livello 3. Successivamente si è lavorato naturalmente questo progetto per fare in modo che questo strumento diciamo estremamente sicuro diventasse anche maggiormente utilizzabile, più semplice naturalmente nell'adozione e nell'interazione di tutti i giorni. Quindi da strumento di identità fisica, insomma tutti quanti lo abbiamo già all'interno del nostro wallet e vi permetto di dire, insomma ovviamente come strumento di identificazione a vista è diventato uno strumento estremamente facile da utilizzare anche nell'interazione ovviamente con tutti i servizi della pubblica amministrazione dove adesso il cittadino può scegliere se effettuare un accesso o di massimo livello di sicurezza utilizzando ovviamente la carta di identità elettronica oppure attraverso una modalità più semplificata attraverso apposta un accesso di livello 1 e 2 dove attraverso l'app che si chiama CAD è possibile effettuare un processo di autenticazione semplicemente utilizzando apposta il telefonino al posto della carta. Questo diciamo fa parte di una serie di sviluppi che diciamo il poligrafico insieme naturalmente al Ministero e a tutto il gruppo di lavoro, insomma ricordiamo, carta di identità elettronica è un progetto che vede il coinvolgimento di tutte le principali amministrazioni naturalmente nel raggiungimento di questo obiettivo di rendere questo strumento estremamente utilizzabile, sicuro e soprattutto anche con naturalmente delle funzionalità che lo rendono pronto naturalmente a poter evolvere quello che è il concetto di identità digitale e servizi intorno naturalmente nell'ottica apposta del wallet. Per cui tra le altre funzionalità diciamo che sono state introdotte sono anche quelle relative al recupero del PUC oggi uno dei principali ostacoli che si è generato nell'utilizzo della carta di identità elettronica è che quando il cittadino ha chiesto la carta di identità elettronica al comune i codici che servivano a abilitare l'utilizzo dell'identità digitale venivano smarriti, persi oppure probabilmente non si aveva immediata contezza dell'utilizzo di questi codici per cui è stato recentemente reso disponibile un servizio che possa quello di recupero del PUC che sempre attraverso l'app CED è possibile direttamente attraverso l'app recuperare i codici di abilitazione e l'utilizzo della carta. Attraverso queste funzionalità quindi oggi carta di identità elettronica diventa oltre che lo strumento diciamo più sicuro di identità digitale dove come diceva prima diciamo anche Agid è lo strumento che ha circa 35 quasi 36 milioni di carte di identità elettronica messe quindi uno strumento ormai nelle mani di quasi tutti quanti i cittadini ma attraverso una serie di sviluppi che stiamo mettendo diciamo a terra che servono a semplificare l'interazione dei servizi tra il cittadino e la pubblica amministrazione mi permetto di citare negli ultimi 20 secondi insomma che ho a disposizione per questo intervento diciamo un'ulteriore funzionalità della carta di identità elettronica che è quello della firma elettronica avanzata oggi anche qui è stato sviluppato un'app che si chiama CSIN attraverso cui è possibile apporre una firma con la carta di identità elettronica una firma ovviamente insomma che è una firma elettronica avanzata e quindi evidentemente con tutte quante le funzionalità diciamo previste nel nostro ambito giuridico però uno strumento aggiuntivo insomma che permette ovviamente di mettere in mano al cittadino insomma uno strumento con cui poter interagire anche attraverso questo strumento nei confronti della pubblica amministrazione Grazie Stefano Allora Pagopia è una realtà diciamo già nota perché ha creato, gestisce, devolve e sviluppa l'appio fra gli altri progetti che ha lanciato quindi a questo punto darei la parola a Lorenzo Fredianelli di Pagopia per spiegarci qual è la storia di appio, che cosa sta facendo adesso appio e che cosa è previsto che faccia nell'ambito del nuovo progetto del Wallet Italiano Bene, buongiorno a tutti e grazie per l'invito Allora Pagopia nasce sostanzialmente nel 2019 per chi non lo sapesse siamo una tech company pubblica italiana che ha l'obiettivo di sviluppare e promuovere soluzioni pubbliche e digitali semplici, veloci, sicure insomma come hanno detto anche i miei colleghi sviluppando e gestendo piattaforme la piattaforma Pagopia è la piattaforma dei pagamenti elettronici verso pubblica amministrazione e poi c'è anche l'appio, l'app dei servizi pubblici operiamo in un contesto nazionale e poi che rispetta anche lo vediamo anche dalla presentazione appena fatta da Vincenzo ma anche in contesti europei che cosa abbiamo fatto in contesti europei? Abbiamo partecipato sin dall'inizio con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale a una chiamata dalla Commissione Europea che ha l'obiettivo di sviluppare un wallet europeo per risolvere alcune tematiche che cosa deve fare questo wallet europeo? Sostanzialmente fa due cose la prima è raccogliere le informazioni dei cittadini all'interno di un ambiente sicuro e avere queste informazioni che possono essere documenti, certificati ed altro si può attivare, si possono abilitare servizi presso pubbliche amministrazioni oppure privati questo in un contesto sia italiano sia europeo abbiamo partecipato con il Dipartimento a due consorsi la prima ha citato Emiliano approfondiamoli un pochetto il primo è il caso d'uso relativo ai pagamenti elettronici si chiama Nobid dove sostanzialmente partecipiamo con i paesi nordici e il secondo è Potential che è il caso d'uso un po' più trasversale che poi ha tanti punti di contatto con il wallet che siamo pronti e stiamo in questo momento disegnando e sono tutti casi d'uso di interazione tra cittadini e il mondo della pubblica amministrazione ma anche nel mondo dei privati con un arricchimento dei casi d'uso che possono essere per esempio relativi alla licenza di guida e quindi ancora una volta si ritorna nel contesto nazionale ma anche la parte delle prescrizioni mediche e tutti quei casi d'uso che normalmente sono associati alla pubblica amministrazione quindi facciamo una sintesi sia dal punto di vista nazionale, domestico sia dal punto di vista internazionale riassumendo è stato deciso e stiamo lavorando e questo tavolo lo dimostra una soluzione italiana una soluzione, un IT Wallet che già ingloba sostanzialmente requisiti europei requisiti italiani e porta in dote anche tutto quello che abbiamo fatto insieme sull'applicazione Io quindi all'interno dell'applicazione Io ci sarà anche la sezione IT Wallet che abiliterà come dicevo prima quei casi di studio molto interessanti quindi l'abbiamo nominato il primo era quello sulla licenza di guida l'altra possibilità è quello sul VT in pass e quindi la tessera elettorale e il terzo è quella della tessera sanitaria questi dati, queste informazioni questi attributi qualificati all'interno del Wallet permetteranno a noi cittadini sostanzialmente di accedere a servizi pubblici a servizi privati in maniera veloce sempre controllando l'informazione all'interno del Wallet abbiamo un timing molto sfidante come diceva prima Emiliano a fine anno vogliamo uscire con la prima POC ma noi per POC è un qualcosa che dovrebbe essere già pronto sostanzialmente ha un go to market ha un lancio per tutti i cittadini italiani nella prima metà dell'anno 2024 quindi sostanzialmente abbiamo l'opportunità adesso di testare un ambiente ristretto con una modalità friends and family i primi diciamo interazioni questo ci permetterà sicuramente di essere pronti e aver collezionato tutti i feedback sia da parte degli utilizzatori sia dagli enti che partecipano in maniera tale di essere estremamente solidi quando questo oggetto finirà nelle mani di milioni di cittadini sapete benissimo che l'app Io è un'applicazione estremamente utilizzata e quindi dobbiamo essere sicuri che da punto di vista scalabilità da punto di vista sicurezza tutti gli elementi sono stati analizzati e mitigati per effettivamente dare un'esperienza digitale a tutte le cittadinanze italiane grazie Lorenzo ultimo last but not least Maurizio Stumbo di Sogei perché allora fa parte di questa iniziativa anche Sogei che non ha bisogno di nessuna presentazione gestisce la maggior parte i maggiori sistemi digitali italiani con amministrazioni delle quali è partner tecnologico a noi fa molto piacere il fatto che Sogei sia entrata in questa iniziativa con noi perché completa questo quadro di attori che stanno ingaggiando questa sfida che è una sfida reale perché come abbiamo detto i tempi sono molto ristretti Maurizio una testimonianza da parte tua su quello che sarà il ruolo di Sogei all'interno di questa iniziativa grazie grazie Vincenzo innanzitutto permettimi di dire una cosa che non è piageria cioè innanzitutto merito al Dipartimento di Trasformazione Digitale che si è fatto promotore di un ecosistema italiano fatto da imprese italiane per rispondere in anticipo rispetto a un'esigenza che è un'esigenza improcastinabile appunto quella del Digital Wallet Europeo e questo ci consente post pandemia di fare un esercizio di fare un esercizio che ci ha visto già coinvolto se vogliamo in elementi disaggregati che comunque comporranno e compongono una nuova esperienza di interazione col cittadino l'elemento dell'APIO e del Green Pass è stato un esercizio di questo tipo è stato un esercizio che ha consentito di toccare con mano il valore di un attributo di un QR code che può abilitare momenti di vita del cittadino nel nostro caso liberarci dall'agonia di dover stare rispetto all'isolamento domiciliare quindi da questo punto di vista credo che ci siano degli ingredienti di complementarietà e noi ci sentiamo molto complementari ai colleghi di Pago PA e di PZS governati appunto dal dipartimento e attraverso le regole di Agile Sogei Sogei come dicevi già oggi vede con grande attenzione il digital wallet lo vede perché gestisce banche dati importanti per il paese la NPR abbiamo la precompilata la fatturazione elettronica gli elementi tributari quindi abbiamo piattaforme importanti che guardano la parte economica finanziaria e sanitaria dello Stato e quindi da questo punto di vista noi crediamo che il digital wallet possa aprire a nuove forme di erogazione di servizi in una logica di comunità da questo punto di vista quindi il nostro contributo è quello di sperimentare il digital wallet con un doppio ruolo il primo contribuire alla definizione di un'architettura scalabile e direi sicura uno dei temi su cui si sta ragionando a livello europeo appunto è quello della sicurezza e quindi abbiamo il compito il dovere e la responsabilità visto che abbiamo l'ambizione di mettere una serie di attributi dei momenti di vita all'interno di un wallet fare in modo che questi siano portabili mobili ma sicuri rispetto all'utilizzo che le fa ogni singolo cittadino rispetto appunto ai propri dati e dall'altra parte ci vede coinvolti rispetto al fatto che noi vogliamo rendere il wallet immediatamente operativo e per farlo va come dire alimentato di attestati o attributi perché riteniamo più attributi o attestati inseriamo all'interno del digital wallet maggiore sarà il beneficio che il cittadino o l'impresa ne avrà nelle sue relazioni col mondo della pubblica amministrazione e non solo magari poi ne parleremo e io credo che questo possa aprire anche a servizi e momenti di vita di cittadini e imprese che si troveranno a livello bancario assicurativo via via diciamo a dover utilizzare attributi rispetto alla nuova forma di dialogazione dei servizi quindi da questo punto di vista partecipiamo volentieri mettiamo a disposizione un progetto che già abbiamo in diciamo da piano che è la demeterra la tessera sanitaria che non è solo il codice fiscale che vediamo ma ha anche una TEAM dietro c'è quel numerello che è un numero di assicurazione europeo riconosciuto a livello europeo e viene domani e può essere utilizzato in integrazione col fascicolo anche rispetto a un cittadino uno studente a un turista che si muove in Europa e che ha bisogno di assistenza sanitaria collegata rispetto a ciò che succede nel proprio paese e ancora prima si parla di tessere elettorale un altro elemento fondamentale capiamo al di là diciamo degli voting capiamo benissimo quanto possa essere di rimente avere dematerializzato anche questo tributo nei momenti di votazione si perde la tessera c'è bisogno di avere il timpro di rinnovarla e così via ecco momenti che da soli dicono poco ma che in un ecosistema di comunità di servizi rente la vita di ogni cittadino e la sua diciamo interrelazione con il mondo del pubblico sicuramente diversa è molto più semplice e diciamo ed affidabile grazie Maurizio andiamo un po' più nel dettaglio perché siamo partiti diciamo con una presentazione degli stakeholder ce ne saranno tanti altri allora questo è un progetto di sistema come credo si comprenda abbastanza anche facilmente è un progetto che coinvolge moltissimi stakeholder qui ci sono i soggetti gli attuatori tecnologici di questa che è una vera e propria rivoluzione la cosa sulla quale io torno spesso quando parlo di wallet è che è un cambio veramente importante di paradigma perché fra un anno nella prossima edizione di Forum PA probabilmente anzi certamente ci troveremo nelle condizioni di poterlo già avere sul nostro smartphone c'è un ingaggio diretto fra l'utente utilizzatore del proprio wallet e il service provider i service provider noi oggi siamo ancora abituati a considerarli pubblici ma nella iniziativa dell'IT wallet sono coinvolti anche dei service provider privati quindi noi stiamo progettando e realizzando uno strumento che servirà al cittadino che lo vorrà utilizzare banalmente ad autenticarsi sui sistemi dei service provider si farà riconoscere perché si passerà dall'autenticazione che oggi noi conosciamo già una mutua autenticazione lo strumento del wallet ci rende indipendenti da terze parti che verificano che cosa stiamo facendo c'è un ingaggio diretto fra l'utente e il service provider c'è appunto una mutua autenticazione un mutuo riconoscimento il cittadino l'utente entra in completo controllo di che cosa ha sul proprio wallet e di che cosa è disposto a dare alla rela in parti quindi al service provider se la propria identità digitale o degli attributi specifici questa è una rivoluzione perché il service provider non necessiterà più intanto di andarsi a cercare lui le informazioni sul cittadino con cui sta dialogando lo stesso cittadino non dovrà più andarsene a cercare saranno tutte digitali e questo farà nascere una serie di servizi che oggi diciamo ancora non abbiamo neanche immaginato perché saranno resi possibili da questa rivoluzione digitale Maurizio prima come i colleghi Emiliano eccetera ha messo diciamo un accento particolare sul tema della sicurezza siccome cambia il paradigma i livelli di sicurezza e le infrastrutture che sono coinvolte in questa attività devono essere di livello massimo evidentemente perché nel momento in cui una persona usa il proprio wallet sta dando le proprie informazioni digitali sicure certificate a una rely in parti quindi a un service provider che le acquisisce le riconosce questi scambi questa interazione deve avvenire a livello massimo di sicurezza perché tutto deve essere semplice ma tutto deve essere diciamo assolutamente gestito in maniera tale che non ci siano incidenti su questo io farei una domanda specifica a Emiliano per dirci sul tema della sicurezza che cosa stiamo facendo rapidamente io aprirei un dibattito sul tema sicurezza e poi arriverei al dibattito diciamo successivo che è quello dell'usabilità che è un'altra questione diciamo che a noi sembra molto rilevante prego Emiliano sì grazie Vincenzo allora quando parliamo di sicurezza essendo cambiato il paradigma e parliamo di sicurezza del wallet dobbiamo distinguere essenzialmente due fasi la prima è la sicurezza nel riconoscimento dell'utente nel riconoscimento del cittadino e in questo ci vengono in aiuto gli schemi di identità digitale che di cui già oggi dispongono i cittadini italiani e da qui tutta la discussione anche attiva in ambito europeo su quelli che vengono definiti di level of assurance degli schemi di sicurezza su cui fare onboarding sul wallet sappiamo che attualmente è un punto in discussione c'è un grande dibattito con una parte dei dei triloghi che punta per avere un onboarding sul wallet europeo con un livello di sicurezza massimo quindi level of assurance high e chi invece probabilmente prova a mitigare anche per sfruttare quelle che sono altre esperienze di identità digitale per avere un loa un po' substantial rafforzato da altri parametri di sicurezza per cui c'è sicuramente questo che è un punto fondamentale e dopo c'è la sicurezza con cui vengono conservate le informazioni del cittadino e che quindi tutelano in qualche modo eventuali furti o eventuali hacking di informazioni da parte del cittadino e su questo si stanno studiando diverse soluzioni dall'utilizzo dei secure element dei diversi sistemi operativi degli smartphone fino anche all'utilizzo di soluzioni miste che vedono il supporto di componenti in cloud rispetto all'utilizzo del solo wallet questo è uno degli elementi sicuramente di maggiore complessità e di maggiore attenzione nello sviluppo della progettualità e del wallet che si affiancano anche a ha una complessità di alcuni standard che sono attualmente in fase di sviluppo perché abbiamo accettato una sfida una sfida che è quella di raccogliere l'invito dell'Europa rispetto a cambio di paradigma verso il modello diciamo così di self-soprene identity a cui faceva prima riferimento Vincenzo ma abbiamo fatto un passettino in più abbiamo scelto di anticiparlo per cui affrontiamo la complessità molte volte di dover sopperire e di dover anticipare proprio lo sviluppo di componenti che sono ancora in fase di progettazione e di dover tracciare la strada Stefano il tema della sicurezza credo che sia uno dei valori di poligrafico dello Stato per cui anche tu una testimonianza su questo il poligrafico diciamo ha come responsabilità per legge diciamo quella della gestione delle carte valori le carte valori sono tutti quegli strumenti sostanzialmente che hanno un ruolo fiduciario nei confronti dei cittadini da parte dello Stato pensiamo ovviamente alla carta di identità elettronica ma non solo se pensiamo ad esempio alla gazzetta ufficiale oggi quando abbiamo una pubblicazione una legge naturalmente in gazzetta ufficiale la certezza che la legge è stata pubblicata come ad esempio tutti quelli che sono gli strumenti a protezione dei farmaci ad esempio ecco il ruolo del poligrafico da questo punto di vista nel fornire soluzioni sia fisiche sia digitali diciamo per quello che è un ruolo fiduciario naturalmente che viene dato dal cittadino negli strumenti da parte dello Stato nei confronti del cittadino è il DNA naturalmente che connota la responsabilità del poligrafico nell'ambito ovviamente della carta di identità elettronica e qui mi aggancio naturalmente al ruolo anche del poligrafico in ambito apposta sicurezza per quello che riguarda il mondo del wallet è la trasposizione esattamente di questo ruolo fiduciario di quelle che sono le abilitazioni che vengono poi inserite all'interno del contenitore che sono il wallet dove il ruolo del poligrafico apposta è quello di andare a certificare sostanzialmente le informazioni che confluiscono all'interno del wallet anche qui faccio un parallelo rispetto a quello che è quello che noi oggi consideriamo il documento per eccellenza la carta di identità elettronica la carta di identità elettronica assolve a due funzionalità uno è il suo stesso testimonianza di uno strumento sicuro con cui il cittadino effettua un processo di identificazione e quindi diciamo è frutto di un processo estremamente robusto che è quello che ha portato all'osomissione e questo quindi diciamo rappresenta in qualche modo la certificazione dell'identità di un cittadino ma è anche lo strumento attraverso il quale è possibile effettuare una verifica di validità dell'identità del cittadino quando io faccio un accesso online ad esempio quando vengo fermato in un punto di controllo potrei attraversare ad esempio una frontiera le verifiche che vengono fatte attraverso quello strumento devono dare la garanzia massima di certezza dell'identificazione del soggetto ebbene questo trasporto nel ruolo del wallet diciamo rappresenta quello che ha posto il ruolo del poligrafico in questo ambito ovvero la garanzia della certezza sia dell'inserimento dell'informazione all'interno del wallet dell'attributo che in questo caso rappresentano diciamo le diverse abilitazioni in particolare quelle che oggi sono connesse alle carte valori o ad esempio ai documenti di riconoscimento ma dall'altra la possibilità di poter verificare che una credenziale un'informazione memorizzata all'interno del wallet continui ad essere naturalmente tale ecco questi due ruoli che sono ruoli naturalmente garantiti dal poligrafico che servono da lì vedete all'interno anche dello schema che è stato presentato insomma tanto il ruolo naturalmente quella di certificatore tanto lo di verificatore e c'è l'ultimo elemento che forse è il più importante in assoluto il wallet ricordiamo che è una scatola mi permetto di dire vuota in qualche modo che non appartiene a nessuno ma c'è il momento iniziale in cui viene fatta l'inizializzazione in cui il wallet diventa di Stefano Imperatori di Vincenzo Fortunato di chiunque naturalmente di un cittadino ecco questo momento in cui diciamo c'è il momento di connessione tra lo strumento di identificazione per eccellenza in questo caso la carta di identità elettronica o uno strumento naturalmente di identità digitale e quello che è l'abilitazione al wallet a diventare persone a essere diciamo associato a un soggetto che è quello che lì dentro è chiamato apposta PID questo è un processo estremamente diciamo delicato il ruolo del poligrafico da questo punto di vista è lavorare naturalmente affinché quello che è un meccanismo estremamente sicuro che oggi permette di poter fornire a tutti i cittadini uno strumento di massimo livello di sicurezza che è lo strumento fisico chiamato carta di identità elettronica sarà quello di andare a realizzare all'interno del wallet quell'oggetto che si chiama PID che rappresenta nient'altro che la connotazione dell'identità fisica all'interno di un ambito digitale che è quello del wallet grazie Stefano allora Lorenzo sei stato chiamato in ballo perché il contenitore è un contenitore dovrà essere sicuro per definizione è già nelle mani di 33 milioni di cittadini italiani di utenti italiani domani diventerà ancora più utile rispetto a quello che è oggi Appio qual è la percezione da questo punto di vista di Pago.pia delle necessità di sicurezza di questo strumento sarà una scatola come diceva Stefano che sarà riempita con attributi in maniera sicura sicuramente l'Appio porta in dote a tutto l'ecosistema che oggi stiamo parlando alcuni asset fondamentali importanti affinché questa scatola abbia un valore per i cittadini il primo fattore fondamentale è sostanzialmente la penetrazione oggi è già nelle mani di milioni di cittadini è stata attivata più di 30 milioni di volte questo vuol dire che il principio dell'uovo della gallina in questo caso si rompe subito perché abbiamo effettivamente l'uovo un altro fattore è la scalabilità perché parliamo di sicurezza ma la sicurezza deve essere anche complementare alla velocità di abilitazione l'Appio ad oggi in appena due anni ha abilitato 12 mila pubbliche amministrazioni equivalenti 200 mila servizi potrebbero dire nulla ma cosa vuol dire vuol dire che per il cittadino ogni mese vengono veicolati più di 20 milioni di messaggi questo è un significato importante in temi di resilienza perché comunque si parla di volume importanti e anche scalabilità perché i numeri non si fanno in maniera veloce se non c'è una piattaforma che è pronta ad accettare l'onboarding un'altra parte fondamentale sull'Appio che sarà ovviamente un asset per tutto l'ecosistema è la fiducia che oggi i cittadini hanno nell'App durante il periodo del Covid è stata utilizzata in maniera massiva l'utilizzo dell'Appio e anche come diceva prima Maurizio ha anche innescato insomma il fenomeno del wallet perché già il Green Pass era un attributo che permetteva di accedere in quel caso a uscire dalle proprie mure domestiche un altro fatto importante che noi riteniamo che sia di valore per l'intero ecosistema è il fatto che l'Appio è integrata con la piattaforma di interpretabilità dei dati e ancora una volta si va ad integrarsi direttamente con l'anagrafica nazionale si va a integrare con tanti database di rilevanza nazionale e questo permetterà ancora di più di riempire questa scatola con informazioni che poi potranno essere utilizzate da noi cittadini per abilitare servizi presso la pubblica amministrazione o anche privati perché questo oggetto ha il doppio scopo e noi crediamo che questi sono gli asset che sono fondamentali per poter garantire l'utilizzo da parte dei cittadini che non è immediato se non è spiegato bene quindi l'app io è anche un veicolo ad oggi utilizzato da moltissime pubbliche amministrazioni per informare il cittadino di novità la parte di messaggistica la parte delle notifiche sarà uno strumento fondamentale per dire al cittadino italiano cittadino internazionale o che ho la disponibilità di servizi internazionali che sarà possibile spiegare in maniera precisa è da oggi hai il tuo wallet prima potevi fare questo adesso puoi fare quest'altro e accompagnare il cittadino ed è il nostro dovere accompagnare il cittadino in questa trasformazione digitale per accompagnarlo bisogna informarlo bisogna aiutare tutti noi a capire cosa fare con questo wallet la parte di messaggi la parte delle notifiche sicuramente va in questa direzione grazie Lorenzo Maurizio Sogei di cyber security mi risulta che ne sappia parecchio diciamo così per cui il fatto che ci sia una contribuzione in termini di infrastruttura di resilienza e quant'altro penso che sia un altro valore aggiunto di questa iniziativa da parte di Sogei assolutamente Vincenzo allora la sicurezza senza dubbio per Sogei è un elemento improcastinabile e anche l'altra iniziativa sul polo strategico nazionale dimostra che quante esigenze abbiamo soprattutto guardando al dato strategico critico di gestire in modo sovrano dati dei nostri cittadini e delle nostre imprese in modo sicuro Sogei rispetto a questo punto di vista quindi da anni gestendo piattaforme di questo tipo ha il dovere di investire sulla sicurezza l'agenzia della cyber security nazionale è cliente di Sogei è nata con noi e noi all'interno diciamo del centro di valutazione e certificazione nazionale dell'agenzia stessa siamo dal primo gennaio laboratori di prova per conto del MEF per quanto riguarda i software che rilasciamo per il nostro cliente quindi questo ha maggior ragione quindi è uno degli elementi che ci caratterizza e speriamo di mettere diciamo al centro anche di questo nuovo progetto che ripeto è la sfida di questo progetto è avere un wallet sicuro per i nostri cittadini aumentando appunto il trust dall'altra parte ecco molto spesso quando si parla di wallet si parla dei vantaggi diretti ma esistono anche vantaggi tipo indiretto che non sono meno importanti per esempio il fatto che un titolare abbia con sé nei propri momenti di vita i propri dati personali vuol dire che questo minimizza l'elemento della privacy del data bridge perché in ogni momento lui stesso se ha questo dato con sé sicuro lo utilizzerà laddove lo ritenga utile e necessario perché ha diciamo la necessità di aver erogato un servizio quindi si inverte completamente la dialettica di relazione non più richiedere un attributo di mia proprietà alla pubblica amministrazione ma averlo con me ed utilizzarlo nei miei momenti di vita ecco e questo è un elemento di poco importante ultimo ma non meno importante è anche il fatto che la vera sfida è più attributi metto a disposizione più il cittadino può verificare che la qualità degli attributi che ho verificato come certificati diventino anche diciamo come dire consistenti e può segnalarmi in tempo reale magari rettifiche rispetto agli stessi perché come sappiamo molto spesso qualche dato di domicilio di residenza o sanitario potrebbe non essere correttamente conservato nella base di date pubbliche quindi questa direttica diventa proattiva diventa vincente e sempre più avremo dati qualitativi in mano ai nostri cittadini che potranno accompagnarli appunto nel percorso di interazione con la pubblica amministrazione grazie Maurizio Enrica Agid è anche lei di fronte a una sfida perché siccome Agida crediterà i gestori del portafoglio assume una ulteriore rilevanza diciamo nelle attività che già svolge oggi anche di regolazione di garanzia se vogliamo anche verso l'ecosistema ma questo ruolo diventa ancora più importante per quello che abbiamo detto prima sul tema della mutua autenticazione sul tema della sicurezza sul tema che le parti in gioco debbano fidarsi le une delle altre qual è la tua percezione dal punto di vista delle tematiche di trust di questa iniziativa e rispetto a questo diciamo Agid che ruolo intende giocare sicuramente Agid proseguirà come dicevi giustamente quello che è il suo ruolo regolatorio per quanto riguarda la definizione di quelli che saranno i requisiti e gli standard di sicurezza del wallet a partire da quelle che saranno le indicazioni che si stanno definendo a livello europeo proprio per far sì che il pilota che si sta portando avanti a livello italiano possa attraverso un percorso andare verso quello che sarà il wallet europeo e l'ulteriore ruolo che avrà Agid sarà proprio anche quello di accreditare i soggetti che metteranno a disposizione il wallet per i cittadini e anche per definire quelli che saranno anche le attribute authorities che in qualche modo saranno chiamate a inserire gli attributi quindi i dati all'interno di questo wallet e renderlo effettivamente utilizzabile da parte del cittadino e in dubbio io vedo oltre a questi aspetti regalatori di sicurezza dover anche parlare di un aspetto legato alla sostenibilità la sostenibilità economica che è mancata per quanto riguarda il sistema speed che invece per il wallet è fondamentale che se ne definisca il perimetro già da adesso e altro aspetto che secondo me non è da tralasciare è anche quello che è il fermento e l'entusiasmo del mercato mercato che però deve essere visto soprattutto verso quei soggetti in grado di gestire con sicurezza grandi numeri e quindi che possano in qualche modo apportare quelle che sono le loro esperienze fatte nell'ambito del sistema speed per quanto riguarda la gestione sicura dei dati e dei servizi che sono messi a disposizione nel futuro con il new wallet Certo Grazie Enrica L'ultimo cenno ma non perché sia l'ultimo degli elementi perché gli elementi sono tanti è questo della questione dell'usabilità Allora è del tutto evidente che uno strumento di questa natura che nelle mani poi prospetticamente di tutti i nostri cittadini italiani e negli anni successivi anche europei deve essere usabile questo è un tema sul quale noi come dipartimento torniamo spesso perché la diffusione di nuove tecnologie o di nuove soluzioni non vuol dire adozione sono due criteri diversi rispetto ai quali se per questo anche l'Unione Europea diciamo ha cominciato a prendere una posizione molto più netta perché le soluzioni non solo vanno realizzate ma vanno rese adottabili da parte degli utenti un particolare tema diciamo che quindi ci sta molto a cuore è che questa soluzione sia particolarmente semplice da usare sia potente perché come abbiamo detto contiene tutti gli attributi digitali a partire dall'identità del cittadino e dell'utente che la adotterà ma deve essere anche semplice da utilizzare su questo va riconosciuto certamente agli IDP provider speed di aver aperto il terreno di aver diciamo fatto vedere come si può realizzare una soluzione che è semplice da utilizzare da parte di chiunque perché se c'è una delle tante cose da riconoscere agli IDP provider speed è di aver reso questo sistema adottato e adottabile anche da persone che non necessariamente sono esperte di digitali o sono abituate diciamo a usare le soluzioni digitali questa è una delle esperienze che ci portiamo considerando anche il fatto che ovviamente gli IDP provider speed faranno parte di questa iniziativa perché il wallet come è stato detto nasce vuoto potrà essere popolato anche con le identità speed certamente sì e per questo diciamo l'ambizione è di avere la fine di questo percorso che come abbiamo detto e lo ripetiamo da qui a 12 mesi molti di noi molti di voi diciamo avranno sul proprio smartphone questo wallet funzionante ci deve portare diciamo a trovare delle soluzioni in termini di usabilità anche per fasce meno fortunate noi ci stiamo impegnando per esempio col mondo della disabilità in Italia già dall'inizio diciamo così a fornire disponibilità una coprogettazione dell'interfaccia dei meccanismi che sono poi previsti dal wallet italiano perché questo deve essere uno strumento universale non solo deve essere uno strumento universale ma deve essere pronto a essere uno strumento europeo essere uno strumento europeo non è una sfida vinta è una sfida da mettere in campo perché sappiamo benissimo che tutti i paesi europei stanno iniziando un proprio percorso di wallet nazionale i large scale pilot di cui si è parlato prima sono piloti nazionali in cui ogni paese ha membri diversi soggetti diversi stakeholder che arrivano anche da mercati diversi in Italia diciamo è noto è presente diciamo molto il mondo bancario oggi l'abbiamo accennato solamente velocemente perché non ce n'è stato tempo ma certamente quello è un settore che sarà interessato perché noi vogliamo che si è interessato da questa iniziativa anche qui dobbiamo un po' capire chi farà cosa perché ovviamente anche le banche hanno l'ambizione di realizzare il proprio wallet questo è benvenuto perché peraltro a livello di regolamento europeo si cerca di aprire questo sistema a chi avrà i numeri a chi avrà le caratteristiche per essere accreditato però certamente quello che vogliamo fare con questa iniziativa è di fare le regole prima quello che è successo spesso diciamo nel nostro paese che brulica anche di proattività da questo punto di vista è che molti soggetti si buttassero diciamo nella mischia quando ancora il framework le regole non erano state completamente disegnate e consolidate questa iniziativa serve anche a questo cioè a fornire a tutti gli stakeholder che arriveranno da qui ai prossimi mesi uno schema chiaro di riferimento all'interno del quale potranno assumere il proprio ruolo ed esercitare diciamo la propria funzione istituzionale o privata in un contesto che è chiaro ma certamente una cosa che è chiara già a tutti è che al centro c'è il cittadino c'è l'utente questo non è un modo di dire io partecipo da tanti anni a forum PA e devo dire che spesso e volentieri abbiamo ripetuto è l'utente al centro dobbiamo fare le cose con un design che nasce diciamo mettendo l'utente al centro questa secondo me è un'iniziativa che ha due grandi caratteristiche una che per definizione ha l'utente al centro perché il portafoglio lo facciamo per lui l'altra è che c'è forse per la prima volta anche qui forse mi sbaglierò ma per me è un'assoluta novità un parterre di stakeholder che sono campioni nazionali che si mettono tutti insieme e credo che questo possa essere anche un elemento di vanto per il nostro paese in anticipo rispetto a tutto quello che stanno facendo gli altri noi abbiamo già cambiato il nostro ruolo sui tavoli europei perché diciamo da tecnici che seguivano l'evolversi dei dibattiti in sede europea abbiamo iniziato a partecipare alle riunioni europee dicendo qual è la nostra posizione qual è la nostra esperienza e quale secondo noi è anche il percorso che deve fare il wallet europeo perché da qui a un anno ci sarà un wallet italiano che sarà mostrabile ai nostri partner europei io finisco qui se non ci sono altri interventi da parte dei colleghi mi scuso se ho rubato quest'ultimo momento di intervento ma ci tenevo a dire che qui non c'è nessuno che vince e nessuno che perde questa è un'iniziativa di sistema tutti quelli con cui stiamo parlando devono farne parte perché non c'è un'alternativa l'alternativa è che questa soluzione la faccia qualche senza nulla in contrario però grande multinazionale straniera questo è diciamo l'unica alternativa che abbiamo sul tavolo per cui questo è uno dei motivi per cui abbiamo deciso con forza e anche con un po' di coraggio da parte di tutti di chiamare i soggetti italiani pubblici e non pubblici perché non sono solamente pubblici a far parte di questa iniziativa che è sicuramente sfidante quindi io non posso che rinviarvi al forum nel 2024 nel quale spero che non solo avremo il wallet ma fatemi fare una battuta avremo anche la credenziale di forum PA digitale senza dover più stampare diciamo il QR code per entrare e accreditarci alla manifestazione quindi io vi ringrazio vi saluto e vi do un appuntamento fra un anno grazie grazie